Bella raga, sono FabTube ed ecco il mio secondo video su Clash Royale, il nuovissimo gioco della Supercell. Se volete sapere come installarlo e cominciare a giocare in Italia, dato che nell'App Store italiano non è ancora uscito, guardate il mio primo video in cui vi spiego come creare un ID canadese, andare sullo store canadese e scaricarlo, per quindi poter incominciare a giocare prima del suo rilascio ufficiale. Ma ora andiamo a vedere come si presenta il nuovissimo gioco. Allora, a differenza di Clash of Clans e Boom Beach, gli altri due giochi della Supercell, non c'è un villaggio da potenziare, bensì è suddiviso in arene di gioco. Quindi c'è, io adesso sono nell'arena 1, quindi sono a un livello molto basso, infatti potete vedere il livello 2, perché ho cominciato a giocare da ieri sera. Nell'arena ci sono tre torri che rappresentano il villaggio, hanno usato gli stessi personaggi di Clash of Clans sotto forma di carte, che si vanno a utilizzare nell'arena per sconfiggere l'avversario. E anche i loro attributi, e quindi di attacco, di vita e di costo, sono simili anche a quelli di Clash of Clans. Ossia, per esempio, il gigante avrà tanti XP ma sarà molto lento, mentre il goblin saranno veloci ma faranno cagare. Come potete vedere la classifica è fatta anche qua a trofei. Io sono a 354 trofei, quindi sono molto pochi, però, dato che è un gioco nuovo e andiamo a vedere il locale italiano, comunque per essere nella top 200 bastano per ora sui 1200-1300 trofei. Quindi prima si scarica, prima si incomincia a giocare e più siamo avvantaggiati rispetto a quando verrà distribuito in Italia ufficialmente. Quindi qua potete vedere le carte del gioco, ci sono il barbari, gli arcieri, i goblin, il mini pecca. Ora potete scegliere fino a un massimo di 8 carte con i vari livelli e qua sono le carte che io per ora ho sbloccato e quelle che invece non ho ancora trovato. Ma come si fanno a sbloccare le carte? Le carte si sbloccano e si trovano con questi forzieri che voi andate ad ottenere una volta vinta la battaglia nell'arena. Ci sono forzieri silver che ci vogliono 3 ore per sbloccarli e di solito ci sono delle gemme, delle carte di potenziamento. Mentre in quelli oro ci vogliono 8 ore perché di solito sono potenziamenti di carte più forti oppure vengono scoperte delle nuove carte. Per quanto riguarda invece il clan, voi vedete Fabotube, no clan, perché sono ancora a livello 2 e il clan si sblocca, come potete vedere qua, a livello 3. Quindi cominciamo a giocare e a vedere come si presenta il gioco. Ok, a differenza di Clash of Clans, gli avversari, non puoi saltare gli avversari, quindi quando il computer ti trova un avversario sei costretto a giocare contro di lui. Vedete le due torri più il castello centrale e qua le carte. C'è l'Elisir che si ricarica, tipo ogni secondo, per giocare le carte che hanno il loro costo, come potete vedere. Quindi Globlin di solito le uso per la difesa così come gli arcieri e il Bomber, che è un vero Bomber. Mentre il Gigante, il Mini Pekka e il Barbaro di solito le usi per distruggere, perché hanno molta più vita e molto più di attacco e costano però anche di più. Comincio a lottare. Vedete che sto per distruggere la prima torretta. Intanto aspetto che si ricarica l'Elisir per giocare le altre carte. Ecco distrutto e ho ottenuto quindi una prima corona che sarebbe come la stella di Clash of Clans. Quindi se si riesce a distruggere il castello principale si ottengono direttamente tre stelle. Alla fine della battaglia chi ha ottenuto più corone? Oppure chi è riuscito a distruggere il castello principale vince il combattimento. Ecco al termine del minuto se si è pari, il primo che riesce a distruggere la torretta oppure il castello vince la battaglia. E man mano che si distrugono le torrette si può avanzare sul terreno di gioco per arrivare più facilmente al castello dell'avversario. 10, 9, 8, che schifo, ho perso. Ho perso, mi ha devastato, infatti non sono ancora molto forte. 3 corone a 1, ho perso 10 trofei. Quindi perdendo la battaglia non si sblocca nessun forziere, si perdono trofei e non si avanza di esperienza. Ah, i potenziamenti, quindi oltre che sbloccarli con i forzieri, si possono anche comprare attraverso i soldi oppure utilizzando le gemme. Anche le gemme si possono comprare con soldi veri oppure utilizzare gemme per avere il pacchetto d'oro. Ok ragazzi, per oggi è tutto, vi ho fatto un po' una presentazione del gioco. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, mi raccomando, e mettete un like. Ciao a tutti, al prossimo video!